Eleonora Giorgi e Massimo Chavarro affiatati come non mai, la foto dei due di nuovo insieme ha scatenato i fan Eleonora Giorgi e Massimo Chavarro di nuovo insieme, la foto dei due ex così vicini ha scatenato letteralmente i fan che non hanno mai smesso di sperare in un loro riavvicinamento Non li vedevamo tanto affiatati davvero da moltissimo tempo e lo scatto ha emozionato tutti L'attrice sta attraversando un momento molto difficile, la battaglia contro il brutto male che le è stato diagnosticato l'ha chiaramente stremata, eppure non ha perso la voglia di combattere e soprattutto sorridere Dall'immagine al fianco di Chavarro traspare tutta la sua felicità, lo scatto è davvero molto bello Eleonora Giorgi e Massimo Chavarro, la foto assieme scatena i fan Eleonora Giorgi e Massimo Chavarro nonostante abbiano divorziato praticamente tre anni dopo le nozze sono rimasti in ottimi rapporti, assieme hanno uno splendido figlio, Paolo e continuano a essere tutti una grande famiglia La foto che ritrae i due ex assieme, però, ha comunque scatenato i fan che li rivorrebbero ancora assieme I due si sono incontrati al matrimonio di Paolo Chavarro e Clizia in Corvaia, la giovane coppia ha deciso di sposarsi a Forte dei Marmi sulla spiaggia Una cerimonia semplice con pochi amici intimi e chiaramente non potevano mancare i genitori dello sposo, che per l'occasione sono apparsi più affiatati che mai A dimostrazione c'è la foto pubblicata dalla Giorgi nelle sue storie Instagram, un gesto che dimostra quanto sia ancora legata al suo ex Massimo Chavarro, come il figlio Paolo, avrà sicuramente dato tutto il suo appoggio all'ex moglie in questa dura battaglia che sta combattendo E proprio per questo momento delicato la coppia ha deciso di anticipare le nozze all'estate La cerimonia, come hanno raccontato Paolo e Clizia al settimanale Chi, ci sarebbe dovuta essere nell'ottobre 2024, ma per consentire ad Eleonora Giorgi di esserci, hanno deciso di anticipare la data L'attrice, infatti, il prossimo autunno potrebbe doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure Ad ogni modo le nozze di Paolo Chavarro e Clizia in Corvaia sono state davvero speciali e hanno emozionato tutti i presenti Eleonora Giorgi era al settimo cielo, i suoi occhi brillavano dalla felicità e anche stare al fianco di Massimo Chavarro sembra averle fatto molto piacere Le immagini del matrimonio sul social hanno ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno voluto fare gli auguri alla giovane coppia Grazie per la visione!